Ciao le ragazzi da Metal! Oggi nuovissimo episodio della serie del che fine hanno fatto, quella serie che va a fare le pulce alle carriete e tutti quei bidoni che ci siamo ritrovati in rosa per qualche assurdo motivo, ma come al solito ragazzi prima di partire con il video vi devo chiedere di fare i compiti per casa, quindi se volete il nuovo episodio di questa serie ragazzi che sta piacendo, voglio proprio fare il botto 100 like! Nessun episodio di questa serie ha mai raggiunto questo numero, quindi se volete il nuovo episodio vi dovete proprio spingere oltre ragazzi, sono veramente cattivo questa volta. Quindi ora iniziamo con il video, come avete visto dal titolo, come avete visto dall'immagine di copertina parliamo di YAM Envila ragazzi, il bad boy del centrocampo interista, grandissimo acquisto che ha fatto la storia dei nero azzurri certo. Andiamo a vedere cosa diceva al momento dell'acquisto dell'Inter. Vedo nell'Inter un progetto ambizioso, una società che vuole tornare in alto, all'epoca avevamo Mazzarri come allenatore, grandi progetti ambiziosi, proprio come me, quindi lui è molto ambizioso, infatti poi la sua carriera vedremo che avrà veramente grandi società alle spalle, Barcellona, Madrid, Manchester United, vedremo, vedremo. Io bad boy? Non credo proprio, sono solo di serie dei giornali francesi, capito ragazzi, lui non è bad boy, il fatto che il primo maggio del 2012 viene arrestato per aver picchiato un suo amico 17enne e poi viene rilasciato il 2 maggio 2012, quindi che si è fatto una notte di carcere, non vuol dire che è bad boy, sono i giornali francesi ragazzi. Continua, voglio guadagnare la fiducia del tecnico e giocare il più possibile. Ambientamento? Bene, mi stanno aiutando Don Cor, Embaier e Kuzmanovic che parlano il francese, quindi ragazzi si spiega tranquillamente il perché questo qua è andato allo sfascio all'Inter, perché c'è stanno sti giocatori che gli stanno a far da chioccia, Don Cor, Embaier e Kuzmanovic, mamma mia, tutto dire. Dopo la tornata in USA vedrete il vero Envila, quindi bisogna attendere ragazzi, è un'attesa che merita veramente tanto perché poi ci sarà proprio da piangere, gli occhi che brilleranno per quelle giocate. E intanto i giornali titolavano Medel, Envila, centrocampo di qualità, ci hanno fatto pura rima. Medel è giocatore utile, Envila è il nuovo cambiasso perché ha una visione di gioco superiore a Medel ragazzi, capito? Envila è il nuovo cambiasso, ma andiamo a vedere questo nuovo cambiasso, questo bad boy. Stagione 2013-2014, il giocatore sta giocando in Russia, la madre Russia, con il Rubin Kazan, totalizzando 32 presenze, 4 assist e 7 gialli. A me sinceramente non mi sembra il nuovo cambiasso, uno costi numeri, non mi sembra. E di fatti comunque non ha fatto una buona stagione, l'Inter nel luglio del 2014, proprio perché non ha avuto una stagione brillante, lo riesce a prendere in prestito biennale di 1 milione di euro e un diritto di riscatto al termine di questi due anni fissato a 9 milioni di euro. Ma sappiamo tutti che l'Inter non riscatterà questo giocatore e andiamo a capire il perché. Quindi parte la stagione 2014-2015, quindi siamo in quella stagione in cui c'è Mazzarri e poi ci sarà i Mancini, quindi è un passaggio di allenatori. E quindi lui fa proprio il fenomeno ragazzi, proprio il fenomeno, è ambizioso, vuole tornare grande, 14 presenze e basta. Manca la soddisfazione di prendere un giallo per dire, oh c'è stato anche in vilano i cartellini gialli, niente. E di fatti a gennaio 2015 ragazzi, quindi solo dopo 6 mesi, l'Inter lo rimanda in madre Russia a Rubin Kazan, fine ragazzi, fine. E in agosto del 2015 viene girato in prestito secco, quindi da Rubin Kazan al Sunderland ragazzi. E lui cosa dirà dell'esperienza all'Inter? Ero fantastico in allenamento, lavoravo duramente, qualche volta anche meglio degli altri compagni. Gli altri compagni sono Kuzmanovic, Schelotto, quindi non è che stanno a parlare dei Mike Ohn, Snyder. E' solo che la mia faccia non andava a genio a qualcuno, chiaro riferimento a Mancini, perché Mazzarri lo ha voluto, poi Mancini se l'è ritrovato e l'ha silurato, ma che strano che è silurato un fenomeno simile. Nulla di cui vergognarmi comunque, beh certo, la faccia tua è questa, non è colpa tua. Se non è andata come pensavo, è stata colpa mia, mi sono perso, ho fatto delle scelte sbagliate, fa parte della vita ma adesso sono cresciuto ragazzi. Quindi comunque lui fa una sorta di mea colpa, dà colpe comunque anche all'allenatore, ma dice che è anche colpa sua, quindi questo onore a te. Comunque il stagione quindi 2015-2016 sta al Sunderland, è volato in Inghilterra, 41 presenze, un gol, 6 assist, un giallo e un rosso. Ha voluto veramente prendere tutto in questa sua carriera in Inghilterra con la speranza che poi a giugno venga riscattato al Sunderland, ma niente ragazzi. Il 30 giugno 2016 termina il prestito con il Sunderland e se ne ritorna in Rubin Kazan, madre Russia e decide quindi di tenerlo anche perché comunque Rubin Kazan non ha avuto offerte da nessuna squadra. Comunque ha avuto un'esperienza diciamo migliore di quelle passate. Quindi stagione 2016-2017 con Rubin Kazan, 23 presenze, un gol, un assist e due gialli. Quindi altra bocciatura, un'altra stagione di merda per Envila, young Envila e quindi nella stagione 2017-2018 il Rubin se lo tiene ancora perché comunque non ce stanno offerte per questo. E quindi colleziona 20 presenze, due gol e un assist e tre gialli ma la sua esperienza con il Rubin Kazan termina a gennaio del 2018. Quindi qualche mese fa ragazzi lui ha chiuso la sua esperienza temporaneamente con il Rubin Kazan perché se ne è andato al Saint-Etienne. Non se sa con quale formula ragazzi, ho cercato su internet, non se sa se è in prestito, se è a titolo definitivo, se è a titolo gratuito. Non se sa come ci ha nato questa Saint-Etienne. Comunque al Saint-Etienne quindi se ne ritorna in Francia, magari ritrova un po' se stesso perché gli è mancava mammina. E colleziona cinque presenze e un assist ragazzi. Quindi è incoraggiante, diamogli fiducia a questo giocatore. Comunque tornando in Francia ragazzi si ritrova col suo compagno 17enne che ha picchiato e ritrova un po' quella grinta da bad boy che ha perso col fatto che si è sposato, che ha avuto figli, che è diventato maturo. Quindi noi vogliamo gli LNB la madre, quello bad boy proprio che dà i grigni e dà. Comunque ragazzi, questa è la sua storia, se può essere definita storia di questa specie di criminale che gioca a calcio ragazzi. Quindi un altro grandissimo giocatore che ha fatto la storia in sei mesi all'Inter e poi veramente è sparito. Le sue ambizioni di diventare grandi sono terminate definitivamente. Ora, come al solito, vi lascio l'indizio sul nuovo e prossimo bidone. Se arriveremo a 100 like in questo video, prossimo bidone. Voglio darvi come suggerimento che è un giocatore di cui io mi ero veramente dimenticato, mi ero veramente dimenticato. Vi voglio dare un altro indizio, è stato fallo attaccante e con l'Inter ha totalizzato un solo gol. Non vi dico il numero di presenze, un solo gol ragazzi. E vi posso dire che mi ero dimenticato proprio di lui, ho detto no, pure questo ha giocato all'Inter. Me l'ero proprio rimosso, me l'ero rimosso. Quindi ragazzi, come al solito vi dico di lasciare un bel like, 100 per il nuovo episodio, commentate e fatemi sapere cosa ne pensate di questo video della storia di Anvilà e anche su chi sarà il prossimo bidone. Condividete sto video e iscrivetevi al canale ragazzi, iscrivetevi al canale ragazzi e fuciano!